Musica Bentornati ragazzi sul canale di Giochi Next Gen Siamo tornati oggi qui con i cavalieri dello zodiaco Soldier Soul Ok ragazzi, allora oggi siamo nella foresta cristallina Con Pegasus contro Magres Che dovrebbe essere il quinto, anzi è il quinto cavaliere di Odino Che andiamo ad affrontare, quindi andiamo subito nella storia Allora, i cavalieri di Atena decisero di raggiungere il tempio di Valla separatamente Questo già lo sappiamo, ce lo stanno ripetendo Nel fito di una tetra foresta Pegasus si imbatte in questo cavaliere qua in cerca di Castaglia Inanzi a lui però si parò il cavaliere divino Magres Noto come il guerriero piastuto di Asgard Ragazzi stanno andando velocissimi con i sottotitoli, non riesco a tenere sempre il passo Magres, cosa hai fatto a Castaglia? Castaglia? Ah, intendi dire quella fanciulla di cui mi sono appena sbarazzato? Aia Cosa? Guarda la Geo Pegasus Ragazzi, ah ecco, bene Mette i corpi nei cristalli E lui li lascia Castaglia, lascialo andare Magres Cioè diventano scheletri, lascialo lì praticamente È finito di causarci problemi La magia che impregna quel cristallo viola ha il potere di assorbire l'energia vitale Sono curioso di vedere quanto lungo resisterà la tua Castaglia Aia ragazzi Castaglia ti libererò in me che non si dica, resisti Preparati Magres, ragazzi, subito duello Lì non ci si perde tempo, solo un avvertimento pieno di iniziale Se dovessi morire Castaglia resterebbe intrappolata lì dentro per sempre Cosa? Eh, se vuoi davvero salvarla inginocchiati e giurami fedeltà Ragazzi, si mette male Eh, consegnami lo zaffiro di Odinu di Thor So che è in tuo possesso Ok ragazzi, eccoci giunti nella sfida Allora lui c'ha la rigenerazione Cosmo di 10% come sempre Le sfide sono vinci senza subire prese E finisci con una BB Quindi con la mossa speciale di Pegasus Ok ragazzi, andiamo subito a vedere come va questo primo duello Ok ragazzi, eccoci Primo duello subito ragazzi Tocchiamolo subito, grande mossa di Pegasus Ragazzi, dobbiamo cercare di finirlo con una BB Quindi dobbiamo caricarci prima di Pegasus Questa la paghi Cometa di Pegasus presso in pieno Ragazzi, oggi mi sento ispirato evidentemente Perché mi dobbiamo Cazzo, Pegasus non sbaglio un colpo Andiamo ancora Colpito Devo caricarmi di più che posso ragazzi Qua Ragazzi, teniamoci a distanza e fulme di Pegasus ancora Eh, vedete, mi stava provando ad attaccare Ragazzi, finirò con una mossa speciale qua Mi sembra un po' difficile perché Vedete ragazzi, sto cercando di tenermi a distanza Sto prendendo tempo per caricarmi abbastanza E teniamo di mossa di Pegasus Fa Fulme di Pegasus Mossa di Pegasus Questa ragazzi, non c'è da un'uscita Uh, ragazzi, attenzione che questo è un bastardo Andiamo ancora di Cometa Vediamo se riesco a fargli la mossa speciale No, ragazzi, l'ho sprecato Che miseria E allora ragazzi ci provano nella seconda sfida Attenzione qua Eh, me l'ha fatta lui la mossa speciale, vedete Anime della natura Cioè, non ha fatto un cazzo però È la prima volta che mi blocca Soprattutto che la mossa speciale Mamma mia ragazzi Vi offro questo sacrificio Ci sta come degli agnelli proprio pasquali Se ne siamo vicini a Pasqua Ragazzi, provo a caricarmi Vediamo se ne scappa lì già qui la mossa finale Aldo dura, infatti Comune di Pegasus, preso in pieno Non è ancora morto però Uh, attenzione ragazzi, che sta reagendo Però diciamo che ragazzi, mi manca poco Quindi forse ce la faccio per caricarmi ancora un'altra notte con la BB Non ancora Andiamo ora A BB presa, ora subito Proviamo No, ragazzi, non ce l'ha fatta ancora Allora vaffanculo Basta Ok ragazzi, non so giusto a finirlo con la BB Però Dovremmo aver finito Questa prima battaglia Senza subire prese Vittoria Ho preso il grado C ragazzi Ma perché ho provato a caricare la BB Non è stata difficile questa sfida Vediamo Ecco qua La prima sfida l'ho completata Nel secondo match provo a fare la seconda Allora Sei pronto ad arrenderti E a darmi lo zephilo di Odino? Oppure preferisci che Castaglia muoia? In quanto cavaliere uccidato Di proteggere l'Atena Castaglia Tu puoi capirmi, vero? Sì, sicuramente ti ascolta Penso che non ascoltami Ho un cavaliere di Atena Disposto a lasciar morire una sua compagna? Taci Taci Se vuoi continuare a vivere Libera subito Castaglia Uh, non dare la colpa a me Tutto ciò non sarebbe capito Se tu avessi accettato La mia proposta Ormai il cristallo inizia Ad assorbire l'energia vitale Di Castaglia Ah, Castaglia Qui ci ha buttato contro Non so che cose Quindi secondo match Ah no Siamo stati imprigionati ragazzi Pekka su spresso Ti resterà solo un corpo Senza vita Ahia L'anello del Nibelungo Conferisce a Lady Hilda Un potere sufficiente Da dominare Il mondo intero Tuttavia Se io tenessi Sette zaffiri di Odino Potrei impugnare la spada Balmung E con essa Sradicare perfino La mavericità Che si è possessata Di Lady Hilda Ah 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 Mi vuole lui il potere Praticamente ragazzi Con la spada Balmung Saldamente in pugno Diventerò il dominatore Assoluto dal mondo Ecco qua Ragazzi Sembrano i pupazzi Quelli che si vedevano L'action figure Che si vedevano in edicola Oh ragazzi E' arrivato Cristal il cigno Benvenuto nel mio Cimitero dei cavalieri Se morissi Da quei cristalli Pulperei Caverai solo le ossa Sbiancate Dei tuoi amici Cosa? Soltanto il mio potere Può rilasciarli Allora bisogna utilizzare Il suo potere ragazzi Dunque Cristal Quale è la tua prossima mossa? Ragazzi Andiamo a fare il culo Con Cristal Ecco la nostra prossima mossa Ah C'ho anche attacco Meno 10% Giusto prendere la sfida facile Dunque la sfida È solo finisce una BB Quindi ci non farò poco Con la seconda sfida Ok ragazzi Conci qui Seconda sfida appena iniziata Andiamo subito Ragazzi Qua devo fare attenzione Anche perché sono Mamma mia ragazzi Surti partitori forte Rispetto alla scontro Con Pegasus Scusate mi è partito Molto ma molto più forte E allora Attacchiamolo così Niente da fare Andiamo subito Di polvere di diamanti Colpito E iniziamo a ricaricarci Ragazzi Quale era? Un'orora del nord Ragazzi Un'orora del nord Ancora l'orora del nord Dovremmo farcela noi prima Infatti Ce l'abbiamo fatta Ok ragazzi Tenne molto poca energia Crystal Lo scontro Sarà abbastanza duro Ancora polvere di diamanti Teniamo la distanza Ancora polvere di diamanti Allora ragazzi Aggrediamolo da vicin'ora No Qua ho sbagliato Ah ce l'ho fatta A prenderlo Ecco qua Grande mostra Grande crystal Allontaniamoci subito Ancora qui Colpiamolo Così Cazzutti e cattivi Che mai Andiamo qua Con l'orora del nord Grande ancora E finiamolo subito Con una mossa speciale Vediamo No ragazzi Non ce l'ho fatta Allora qua ragazzi Dovrò temporeggiare Se voglio fare la seconda sfida Eccola ragazzi Ce l'ho di nuovo Mossa finale ora Vediamo Sì Ce l'ho fatta Finalmente ragazzi Finalmente ce l'ho fatta E ho completato la sfida Ecco qua Ce l'ho fatta ragazzi Magari vi salto La parte nel quale L'ho aspettato Per ricaricarmi Vi faccio vedere Direttamente quando Mi sono uscito a caricare Ora vedo In fase di editing Allora ragazzi Grado è C Però Potremmo finire Con grado S O A Ho perso tempo Appunto nel farlo Ricaricare ogni volta Perché ho sbagliato Due volte La nostra finale Vediamo come prosegue La storia Ah e ovviamente ragazzi Qui c'è la sfida Completata Quindi vediamo ora Come finisce la storia Crystal ti finirò Con una tecnica Che la mia famiglia Si tramanda Da generazioni Anime della natura Quella che ci ho fatto prima Che succede? No Wow Alla napoletana maniera Uè wow Uh Crystal Cavaliere del Cigno Hai una notevole capacità Di resistenza Ma adesso morirai Teca Viola Dell'Ametista Ragazzi è arrivato anche Sirio Sono già in tre Crystal non occuperò io di lui Ah Sirio Il discepolo del maestro Dei cinque picchi Sai chi sono? Ho letto le croniche Sul mio antenato Megres 13 In cui si narra Di come Egli affrontò In battaglia Il tuo maestro Si mi pare Che il maestro Me ne abbia accennato Mi è antenato Fui sconfitto Proprio da lui E oggi vincerò Anche a nome suo Ragazzi vediamo Se c'è una terza sfida Addirittura Questo è tutto da vedersi Attenzione ragazzi Abbiamo una terza sfida In questo episodio Io le sfide Le avevo già fatte Quindi andiamo a vedere Subito Sirio Contro Megres Eccoci qui ragazzi Ora non ho Problemi Di dover fare mosse finali Né niente Quindi possiamo Veramente provare A prenderci un grado alto Se ci riesco Però perché lo vedo Già bello cazzotto E cattivo Colpo del dragone Apparato Abbiamo subito ragazzi Belli aggressivi Qua bastardo 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 Ah ragazzi Ragazzi è riuscito A fermarmi Il colpo del dragone Comissario Non riesco ancora A metterlo a segno Ma ora si però Andiamo ora qua Vediamo se riesco Si l'ho bloccato Mentre non so che cazzo Stava facendo Ancora qua K.O ragazzi K.O Consirio Stavolta Non avevo nessun tipo Di sfida Quindi Mi ho potuto fare il culo Semplicemente Ecco qua Ragazzi Ve l'ho detto Che potevo prendere Tranquilamente Il grado S Ma già da prima Magre Se non capisci Che Hilda È manipolata Oh hai deciso Di giocare Questa carta So già tutto Cosa Una volta Tenuta la spada Balmung Dominò il mondo Al posto di Hilda Tu dovresti proteggerla Non ucciderla Justamente Non ti lascerò Mettere le mani Su quella spada Ti sei spogliato Dall'armatura Finalmente accetti La sconfitta Farai la stessa fine Di Pegasus Teca viola Della metista Attenzione Vuole metterci anche Vuole mettere anche Sirio nella teca Magres Hai perso Che fa? Cosa? Buah L'ha colpito Lui l'ha fatto In maniera più Non puoi usare Anime della natura E teca viola Della metista Allo stesso tempo Sapevo che Aresi fatto ricorsa Teca viola Della metista Se mi fossi privato Dell'armatura Era un rischio Che dovevo correre No mi sono lasciato Per fare Ecco qui ragazzi Sono stati liberati Che è successo a Magres? Quindi presumo che non sia morto Pegasus Castaglia Castaglia Vieni con noi Non possiamo lasciarti qui Non direi assurità Pegasus Se non sei più un bambino Presto dovete andare Castaglia Va bene Crystal Ora che Sirio ha sconfitto Magres Abbiamo 4 zaffiri di Odino E Sirio Ha detto di proseguire Lui ce lo giungerà in seguito Ok ragazzi Prima di lasciarvi La cosa che non capisco è Thor ci ha dato uno zaffiro Poi Luxor il secondo Artax il terzo Mime il quarto E Magres Doveva essere il quinto Zaffiro di Odino Non il quarto Come ha detto Crystal poco fa Qualcosa non mi torna Quindi qual quadra Non cosa Vabbè ragazzi Comunque a parte questo Nel prossimo episodio Andremo nel tempio di Valhalla Ad affrontare Mizar con Andromeda Mizar che è il cavaliere Che è apparso anche nel primo episodio Quello che vedete Alla testa tipo con il cobra Quindi ragazzi Io per ora finisco Concludo qui Il proseguimento Del walkthrough Di Cavalieri dello Zodiaco Spero che la serie Vi stia piacendo Supportatela sempre Mi raccomando ragazzi Con un bel like Se avete qualcosa a dire Commentate Condividete il video Iscrivetevi al canale Se non l'avete già fatto Mi raccomando ragazzi Suggeritelo a vostri amici Se magari mi aiutate A far crescere il canale Qui da un giorno del 83 Tutto Ci vediamo al prossimo video Bella Ciao a tutti 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 Ciao a tutti